Dai zitto che è buono! Reggi con le mani sempre così dietro. Devi tenere gli occhi aperti. Aperti si, devi tenere il panorama, devi tenere il panorama. Ok. Dimmi quando accendi la telecamera eh. L'ho acceso. Ah ecco, siamo pronti Lorenz. Io spero che lo riprendi lui, però non ti assicuro. Il mio cuore batte forte. Forte, forte. Perché ce l'hai il cuore? Se non ce l'avevi che ti batteva eh. Dai. Noi facciamo un urlo di liberazione quando partimo, sempre. Leda e Lorenz vanno giù. Reggi bene la mano. Non ci crederà Paul quando ci porti sto passo. Non ci crederà Paul. Paul! Al mio tre gambe tese. Paul l'ho fatto per te questo. Uno, due, tre. Ciao! Ciao! Viva! Bello! È bello! È bello! Viva! Bello! Guardati! Wow! Guarda! Stiamo volando io e Lorenz! Lorenz è la prima volta! competizia, perfetta e giuderà! Guarda! Guarda che garcia posizia, guarda che garcia! Guarda che registy! Guarda che garcia! Guarda che guardians! Guarda che garcia! Wow! Guarda! bello bello guarda adesso risaliamo bello eh guarda vedete tutto ciao amici ciao Pol che ho fatto fare a Lorenze Pol sono io assolutamente capace a raccontare incredibile questo adesso bordo ah giusto sembra che tocca a me diante siamo arrivati già buon ambo indietro buon ambo indietro oh che cazzo oh mio incredibile voraccio Lorenze voraccio Lorenze voraccio Lorenze ah 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 ah